Best for Soil, compost termofilo, informazioni pratiche. Ciao, mi chiamo Alfred Grand. Questo video Best for Soil fornisce un'introduzione alla produzione e all'applicazione di compost termofilo. Alla fine del video vi sono ulteriori informazioni su questi argomenti. Guardate anche gli altri video di Best for Soil sul compost e altri argomenti relativi alla salute del suolo. La sostanza organica compostata o COM è un prodotto della decomposizione microbica della MO in condizioni aerobiche. A seconda del metodo di compostaggio, delle dimensioni, dell'intensità dell'operazione e della materia prima in ingresso, è possibile produrre una vasta gamma di compost con qualità diverse. Il compost termofilo, chiamato anche compost da decomposizione a caldo, è il tipo più comune di prodotto da compost. Può essere prodotto su diverse scale, da piccoli cumuli con rotazione manuale, a metodi di compostaggio su scala industriale, utilizzando trattori o addirittura semoventi. Il compost termofilo raggiunge temperature tra i 60 e i 65 gradi centigradi per diversi giorni in tutto il cumulo. Queste temperature garantiscono l'uccisione o la disattivazione dei semi di erbe infestanti e agenti patogeni presenti nel compost. La produzione di compost è soggetta a normative diverse in ciascuno Stato membro dell'Unione Europea. Queste normative differiscono a seconda delle dimensioni degli impianti, delle matrici utilizzate e del rischio di contaminazione che la produzione di compost può causare ai corpi idrici superficiali e sotterranei. La posizione ottimale per collocare l'area di produzione del compost dipende da una vasta gamma di caratteristiche. Oltre al rispetto delle normative locali e statali, la principale decisione da prendere è quella di compostare su una superficie impermeabile, dove è possibile controllare e raccogliere i deflussi e dove è possibile operare anche in condizioni di bagnato o compostare direttamente sulla superficie del terreno. Occorre essere consapevoli dell'accessibilità e dei costi di trasporto, ma anche delle emissioni provenienti dal cumulo di compost, quali odori, polveri, contaminanti e del loro potenziale impatto sull'ambiente circostante. La disponibilità di matrici organiche in zona è fondamentale se si vuole produrre compost. La caratteristica più importante da considerare è il rapporto carbonio-azoto della materia prima di partenza. I letami spesso si utilizzano da soli, soprattutto se includono materiale di lettiera a base di carbonio. Con altre matrici è necessario creare all'inizio delle miscele. Tutti gli organismi, per prosperare, hanno bisogno di una serie di condizioni ambientali. Questo vale anche per i microorganismi che producono il compost termofilo. La disponibilità di ossigeno nel cumulo di compostaggio e un contenuto di umidità del 60-80% sono fondamentali. Per mantenere attivo il processo, è necessario disporre di una struttura fisica del cumulo sufficiente a consentire la presenza di ossigeno, ma è anche necessario girare frequentemente i cumuli. Con questa operazione è possibile apportare correzioni al contenuto di acqua, mediante irrigazione, ma anche alterare il rapporto carbonio-azoto, almeno all'inizio del processo. A seconda delle dimensioni dell'impianto, sono più o meno necessari ausili tecnologici per produrre compost di alta qualità. A livello agricolo è necessario un grande caricatore frontale per formare il cumulo, ma anche per caricare il materiale dopo averlo setacciato. Per la distribuzione è poi necessario un carro spandiletame per compost. Per rigirare il cumulo di compost viene spesso utilizzato un tornio per compost largo 3 metri, guidato da un trattore. Girare cumuli di compost è un processo lento, quindi l'opzione migliore è che il trattore offra una gamma di velocità di 200-400 metri all'ora, oppure il tornio deve avere un proprio propulsore a comando idraulico e la capacità di spingere il trattore in folle. La maggior parte delle attrezzature necessarie per il compostaggio può essere facilmente condivisa da più agricoltori, noleggiata, oppure il lavoro può essere svolto da contoterzisti. Oltre a concentrarsi sull'ottimizzazione della produzione del materiale, è anche importante monitorare la qualità del materiale prodotto. Abbiamo preparato un video Best for Soil anche su questo argomento. È fondamentale informarsi sulle normative locali e statali in merito all'applicazione del compost. Queste regole possono essere riferite a determinati parametri di qualità, ma anche alle epoche di distribuzione e alle quantità di compost che possono essere applicate in campo o in una serra. A seconda delle quantità da distribuire, l'applicazione del compost può essere esternalizzata. Gli appaltatori professionisti non solo hanno la giusta tecnologia, come ad esempio i sistemi di regolazione della pressione degli pneumatici, ma spesso possono fornire un'adeguata documentazione sull'applicazione del compost. La produzione di compost è un processo che richiede molto know-how e una certa esperienza. Per ottenere maggiori informazioni sul compost, non esitate a visitare il sito web Best for Soil, dove si possono trovare risorse aggiuntive. Grazie a tutti.